La leucemia linfoblastica acuta è stata la prima patologia nella quale le cellule CAR-T hanno dimostrato di funzionare. Era una paziente, una bambina che si chiamava Emily perché per fortuna è guarita grazie a queste terapie e da lì ha preso inizio un po' tutta la storia delle CAR-T che ha portato alla fortissima evoluzione nei confronti alla quale siamo di fronte oggi. Qual è però a questo punto il bilancio delle cellule CAR-T nella leucemia linfoblastica acuta? Qual è il loro ruolo soprattutto anche in confronto con gli altri farmaci disponibili? Ne parliamo con un vero esperto con il dottor Alessandro Isidori che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso del primo master della prima scuola sulle cellule CAR-T. Buongiorno dottore grazie di essere qui con noi. Senti innanzitutto in quali pazienti in quali fasi di malattia di fronte a persone con leucemia linfoblastica acuta vengono impiegate oggi le CAR-T. Ce lo spiega? Oggi le CAR-T vengono impiegate nel paziente che ha una leucemia acuta linfoblastica recidivata o refrattaria che significa che è un paziente che non ha risposto alla terapia di induzione che gli è stata proposta oppure che ha sperimentato una recidiva dopo aver ottenuto una remissione completa. Gli studi pionieristici come ha detto lei sono stati fatti in ambito pediatrico e uno dei maggiori esponenti di studi pediatrici qui in Italia è il professor Locatelli. Altri studi sono stati poi sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti nel paziente pediatrico sviluppati nei pazienti con leucemia acuta linfoblastica recidivata o resistente che fossero giovani adolescenti o adulti. Per quel che riguarda la selezione del paziente ricordiamo che ad oggi esistono dei CAR-T commerciali che sono sempre più in espansione ma che comunque ci sono ancora una serie di trial clinici che ci devono stabilire quale possa essere poi il reale utilizzo di questa forma di terapia estremamente efficace ma che ha delle tossicità specifiche e che ha anche dei costi particolarmente elevati. Determinate caratteristiche di pazienti rientrano meglio per quel che può essere l'eleggibilità verso un trattamento CAR-T che sono come dicevo pazienti giovani con un buon performance status mentre invece per quel che riguarda la recidiva del paziente anziano siamo ancora lontani dal poter offrire questa terapia come realmente un'opzione realmente percorribile. Siete dottor Isidori con che risultati in termini di efficacia e poi se il profilo di sicurezza soprattutto adesso che comincia a esserci una certa esperienza si riesce a gestire bene? I risultati dei trial clinici sono estremamente incoraggianti perché questi sono pazienti che con le terapie convenzionali non otterrebbero un allevato numero di remissioni complete con i CAR-T il tasso di remissioni complete cioè la malattia la leucemia che non è più presente a livello midollare e a volte anche negativa da un punto di vista di malattia residua minima quindi una quota di malattia veramente molto piccola resta nel midollo siamo tra il 70 e l'80 per cento. Il problema fondamentale è legato alla persistenza di queste cellule all'interno dell'organismo del paziente. Persistenza significa che noi inoculiamo delle cellule ingegnerizzate che a un certo punto svolta la loro funzione possono scomparire e la ridotta persistenza si correla talvolta con una riespansione della malattia. Oltre a questo l'altro problema è la tossicità perché esiste una tossicità neurologica che è dovuta dal rilascio di citochine che sono delle sostanze proinfiammatorie che si liberano all'interno del paziente quando appunto i CAR-T vengono infusi. Queste sono vere e proprie situazioni di emergenza in cui è necessario avere un equip che è in grado di riconoscere subitaneamente l'effetto collaterale per instaurare poi una terapia che possa permettere al patente di superare la fase acuta. Quindi alti tassi di risposte complete per quel che riguarda la sopravvivenza libera da malattie e la sopravvivenza globale forse dobbiamo ancora chiedere qualcosa di più a queste nuove terapie cellulari. Senta la terapia delle patologie ematologiche sta per fortuna vivendo una fase di grande innovazione quindi ci sono continuamente proposte nuove a seconda poi delle patologie e lei quindi qui ha parlato dell'alternativa terapeutica che potrebbe esistere di fronte a un certo paziente se utilizzare le CAR-T oppure se utilizzare gli anticorpi bispecifici che appunto stanno arrivando ce n'è già uno ma ne arriveranno sicuramente anche degli altri ecco quando usare uno quando usare l'altro? Sì questo perché CAR-T vengono prodotti per colpire selettivamente una molecola di superficie che è il CD19 che è una molecola caratteristica delle leucemie acute linfoblastiche e anche i bispecifici attualmente presenti colpiscono lo stesso tipo di molecola quindi lei capisce che avere una terapia che arriva in un secondo momento su quello che è stato lo stesso target di una precedente terapia quindi CAR-T dopo blinatumab dopo bispecifici può costituire in qualche modo un problema. I primi studi sui CAR-T escludevano popolazione precedentemente trattata con un anticorpo bispecifico anti-CD19. Adesso questo fatto nei nuovi studi clinici non è più necessario diciamo così che le recidive CD19 negative cioè che il patente torni fuori che la malattia ritorni fuori con un clone con una bandierina diversa rispetto a quella che è stata colpita per due volte resta quindi un problema da affrontare. Credo che in questo momento il blinatumab è disponibile in commercio quindi sia più facilmente utilizzabile e che da un punto di vista logistico la generazione di CAR-T richiede almeno un mese l'altro è un trattamento che può essere servito subito. E certo questo è indubbiamente un vantaggio. Senti invece l'alternativa CAR-T o trapianto allogenico esiste cioè ci sono dei pazienti in cui uno si può porre il dubbio ma uso l'uno o uso l'altro? Sì esiste anche se il dato che emerge dai tre al clinici è che CAR-T possa essere una terapia che viene utilizzata come ponte per un trapianto allogenico. Questo dipende in parte da quello che è la molecola di costimolazione cioè diciamo così l'interruttore che favorisce poi la risposta di CAR-T che viene inserito all'interno della cellula perché in base a quella che è la costimolazione il trapianto allogenico sembra avere un ruolo importante di rinforzo successivo alla terapia con CAR-T mentre in altri studi sembra che fare una chemioterapia ed utilizzare poi delle cellule allogeniche possa portare ad una ridotta persistenza dei CAR-T e che quindi crei degli ulteriori problemi. Anche questo è qualcosa su cui dobbiamo continuare a lavorare per cui c'è ancora tanto da fare e sono convinto che nei prossimi anni avremo tutte le risposte alle nostre domande. Bene grazie di quello che ci ha raccontato l'importante è che per i pazienti come come sta succedendo ci siano dei passi in avanti e quindi complimenti anche per il suo lavoro. Grazie. Grazie a voi.